Ciao a tutti ragazzi, oggi sono Cristian Larini e vi faccio vedere i personaggi di Lego Movie 2 Ok, partiamo adesso la posizionazione Ok Ce l'abbiamo qui, il generale sconquasto Ci abbiamo Unikitty Il duplo alieno Lo scagnozzo alieno duplo La regina è quello che voglio, felice E la regina è quello che voglio, arrabbiata Il veicolo C'è il paraurti, le ruote, i sportelli Il mohack exhaust La generale sconquasto La generale La navicella generale Del generale sconquasto La navicella supporto raptor Si chiama supporto raptor perché C'è il vero c'è un mini raptor all'interno Lucy con la balestra Emmet con la tazza da caffè E il rex rischianto Col fucile Il mio preferito sarebbe Questo E questo Perché sono sia fatti di Lego Ma sono del mondo duplo Grazie per essere seguiti E alla prossima